Cristiano Malgioglio smentisce la partecipazione al GF VIP Grande fratello VIP, Cristiano Malgioglio smentisce la sua partecipazione. Tutti davano per certo la partecipazione di Cristiano Malgioglio al GF VIP, ma il paroliere di Mina sembra aver smentito la sua presenza al reality show di Canale 5, dedicato ai personaggi famosi della TV. Io al GF VIP? Solo rumores per il momento scrive Cristiano sul suo profilo Twitter. Cattive voci che circolano sul web da qualche giorno, vedevano Malgioglio prendere parte al cast del programma condotto da Ilari Blasi soltanto per motivi economici, in quanto la famosa cantante americana Maria Carey lo avrebbe querelato. Ovviamente nulla di tutto questo è stato confermato dal paroliere di Mina. Cristiano Malgioglio, con le parole usate sul suo profilo social, ha voluto smentire categoricamente la sua presunta partecipazione al reality oppure è ancora in trattative con la produzione dello show di Canale 5? Manca poco più di un mese all'inizio della trasmissione, non ci resta che pazientare ancora un po' per avere conferme ufficiali. Cristiano Malgioglio dice no al GF VIP? Le anticipazioni del grande fratello VIP vedevano Cristiano Malgioglio nel cast del reality show in onda su Canale 5 e condotto da Ilari Blasi, la moglie dell'ex capitano della squadra di calcio della Roma. Ma il paroliere di Mina sembrerebbe aver smentito la sua presunta partecipazione al cast del programma. Voci di corridoio o meno, se Cristiano Malgioglio dovesse far parte del grande fratello VIP sarebbe davvero un bel colpo per l'azienda Mediaset. E' uno dei personaggi più amati del popolo italiano e, grazie al suo eccentrico carattere, regalerebbe momenti di puro divertimento al pubblico che con affetto lo segue da casa. Gli altri partecipanti del reality show dovrebbero temere la sua presenza all'interno della casa più spiata di sempre, poiché sarebbe sicuramente uno dei personaggi televisivi favoriti alla Vittorio. Noi facciamo il tifo per te, Cristiano. Noi facciamo il tifo per te, Cristiano.